Alfonso Morelli, Assessore alle politiche giovanili e tante altre del Comune di Narni. Perché un Assessore decide di realizzare un processo partecipativo per progettare il piano locale giovani? Perché le politiche giovanili fino ad oggi sono state viste sempre come le politiche del divertimento e della ricreazione, invece le politiche giovanili sono le azioni che tutta la comunità fa per prospettare un futuro migliore per la propria comunità. Quindi oggi abbiamo chiamato non solo i giovani, ma tutta la comunità, enti, associazioni e istituzioni per iniziare a discutere insieme su come migliorare il presente e programmare bene magari anche il nostro futuro. Benissimo, grazie e buon lavoro.